Ciao ragazzi, oggi siamo qui al passo della Gava che vedete alle mie spalle, posto stupendo con dei panorama spettacolari, oggi vi presento un itinerario all mountain tutto su terreni rocciosi aridi che scende appunto verso Arenzano. Come al solito, se siete interessati a trovazioni o tracce, contattateci sulla pagina Facebook Testendure MTB Team e andiamo. Guardate che spettacolo, rifugio Kadagawa e vasca antincendio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 Peccato. Grazie a tutti. 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 a tutti.